Buongiorno da Biettivo News. Oggi, 19 marzo, è San Giuseppe ed è anche la festa del papà. Una festa che si celebra in tutto il mondo, ma la data varia in base alla nazione. In Italia la festa del papà è una consuetudine del 19 marzo, come in alcuni altri paesi, dalla lunga tradizione cattolica, come la Spagna o il Portogallo. La data fu per molto tempo la principale festa cattolica ha legato a San Giuseppe, il padre di Gesù. Il culto religioso di San Giuseppe è molto antico e nacque in Oriente, nell'Alto Medioevo, per poi diffondersi in Occidente già nel Trecento. Intorno a quel periodo alcuni ordini religiosi cominceranno a osservare la sua festa il 19 marzo, giorno della sua morte, secondo la tradizione. La festività di San Giuseppe fu inserita nel calendario romano da Papa Sisto IV intorno al 1479 e nell'Ottocento il santo divenne patrono di diversi paesi con un'importante tradizione cattolica come il Messico, il Canada e il Belgio. Infatti nel 1870 Papa Pio X elevò San Giuseppe al rango di San Patrono della Chiesa Universale. Leone XIII lo nominò santo patrono dei padri di famiglia e dei lavoratori nel 1889. Per commemorare questo evento i figli avevano preso l'abitudine di fabbricare piccoli regali oppure di offrire dei fiori ai loro padri.